Priveto a tutti ragazzi, io sono Silvia Wank e come potete vedere sono finalmente riuscita a registrare il mio schermo. Sì, perché in passato ho sempre provato vari programmi che evidentemente tutti riuscivano ad usare tranne me, evidentemente perché il mio schermo, il mio desktop era un po' timido, non c'era feeling con questi altri programmi e quindi non si faceva registrare. Ora invece con quest'altro programma sono riuscita finalmente a registrare lo schermo e quindi posso finalmente mostrarvi qualche giochino flash a cui gioco generalmente. E sullo schermo in questo momento potete vedere Geek Mind, uno dei miei preferiti perché sono uno a cui piacciono generalmente i giochi quiz con le domande e questo unisce questo tipo di gioco con i videogiochi. Infatti praticamente compaiono sullo schermo pezzi, immagini di vari videogiochi, però non a schermo intero, cioè sono piccoli frammenti di immagini e bisogna capire nel tempo a disposizione quali i giochi sono. Potrebbe sembrare facile ma a volte uno mettono giochi tipo vecchissimi a cui non ho neanche giocato quindi diventa abbastanza difficile e due il fatto che abbiamo praticamente, non so se non sbaglio, un minuto di tempo, diventa tutto iper frenetico e quindi diventa tutto uno sclero. E infatti so già che uno sbaglierò probabilmente le pronunce varie dei videogiochi nella frenesia del momento, due non mi verranno un sacco di giochi che sicuramente conosco, magari ci ho pure giocato e mi scorderò in quel preciso istante il nome del gioco e quindi yeah, però abbastanza schifo in questo gioco, già lo so. Però dai, vediamo se riusciamo a fare un punteggio recente. Ci ho provato diverse volte, tipo a un certo punto non riesco ad arrivare a più di un tot, vediamo se magari oggi mi portate fortuna. E iniziamo. Ok, allora innanzitutto, ah, su Super Mario generico, ah, ovviamente sbagliò anche a scrivere, sì. Ovviamente ci sono i suggerimenti, Fallout, amor mio, tre ovviamente, perché ovviamente si è sbagliato a scrivere anche una sola cosa. Oh mio Dio, sì, Dead Space appunto, ah, ah, non mi viene, madonna, uffa lo so, maledizione. Perchè no? Oh Cristo, non mi viene, devo schifare, ma lo so che cacchio sei tu, uffa. Dragon, dragon, slayer, sì. Ok, Yoshi's Island, sì. Mass Effect era quella di prima, maledizione. Ecco, ti adoro che sei ricomparso. Vedete, mi divento predislessica. Oddio. Space Invaders? Sì. Dai, carica, carica. Hulk? Genericamente. Oddio, questo dovrebbe essere Mario Party? No. Mario Party 2? No. 3? No, non lo so, passiamo. Sempre un Super Mario? Questi, non lo so, mettono ogni tanto Super Mario molto generici. Diner Dash, questo, sì, questo lo ha al duro come gioco, è fantastico. Oddio, oddio, aspetta, suggerimento. Eh, boh, non lo so, sinceramente. Schippiamo, perché ovviamente il tempo passa qui. Tetris, se non sbaglio. Sì, ok. Andiamo. Oh, mio, questo è sul DS. Aspetta, questo lo sono andato a cercare un'altra volta. Mario Doctor? Doctor Mario? Sì, perché sta l'anno, questa versione, quello là, ma in, ah, non distraiamoci. Eh, God of War, sì. Sul Brain Training, cioè. Non lo so, schippiamo. Non mi viene subito. Dai, dai, su. Ma che, come, sembra un ring. No, vabbè, non lo so, cioè, è un ring, ma come faccio a capire che gioco è? Oddio, schippo, non mi viene, non mi dice niente in questo momento. Ma mi dice niente anche questo. Ci potrei anche arrivare, ma non c'è tempo. Fini. Phoenix. Right. No, non sbagliare a scrivere, maledizione. Un altro Super Mario XYZ, ma non mi viene in mente. La ruota è la fortuna? Non so come si dica l'inglese. Oddio, fa già lo schifo. Oh mio, che cavolo. Che sia Dark Messiah? No, non è, schippiamo, schippiamo, veloce, sta passando il tempo. Flower. Sì, Flower. Ovviamente poi danno il tempo, se si azzecca, però siccome non sta azzeccando nulla. Oddio, minefield. No, no, lo sapevo il nome, però me lo ricordo. Adesso è un Pokémon. Siamo un Wubat. Ovviamente non è, perché giustamente giusto quando lo sto facendo. No, è già finita, ha fatto un putteggio. Non è arrivata neanche la medaglia d'oro. Ah, maledizione. Che se ci riproviamo? Ma sì, dai, un'altra volta. E poi praticamente entro in un loop, perché appena finisco, siccome non riesco mai a raggiungere il punteggio, i livelli più alti, ogni volta ricomincio, fin quando, vabbè, non mi viene il nervoso. Veloce, dai, su, su. Allora, di nuovo. Dragon Slayer. Ok, poi. Diablo. Ok. Dai, dai, su. Eh, Geopardy. No, con la G. Che c'è il programma, eh. Questo sarà il gioco del programma. Di nuovo la ruota della fortuna. Non so come ti chiami. Ok, il prezzo è giusto, sarà. Wario. Non lo so. Skippa, vai, veloce. Il tempo deve passare con lo Skippy. Allo, Mass Effect. Sì, questa volta mi è venuto. Ah, Where's Valdo. Sì. Invece c'è un gioco sul confine. Katamari. A cui non ho mai giocato, però lo conosco, non so perché. Halo. Halo. Dai, dai. Possiamo fare... Generico Zelda. The Legend. No, vabbè, ne scriviamo Zelda, facciamo prima. Di nuovo Space Invader. Waders. Ok, prima medaglia, ce l'abbiamo fatta. Oddio, questo è Capcom vs Marvel? No? Marvel vs Capcom? Sì, vabbè, però me la potrei dare per giusta. Dai, su. Non ho niente idea cos'è questo falco. Sa testa. Oddio, che cos'è questo? No, lo so. Passiamo, passiamo. Non possiamo soffermarci. Angry Birds. Che poi, se non sbaglio, dall'ultimo altro gioco. In questo gioco hanno aumentato i livelli. Professor Layton. Ok. Hanno messo altri giochi nuovi, quindi... Un kart, qualcosa, ma schippiamo. No, non mi viene. Che poi, quando... Ora, tipo, ne vedo un sacco che conosco, ma non compaiono. Un altro Super Mario. Ma che... Schippiamo, non lo so. No, era un Super Mario, c'era la tartaruga. Maledizione. Oddio. No, non lo so. Non mi viene. E questo Super Mario... 64? Mario 64? Perché ce ne devono essere mille mila di Super Mario? Questo è... Super Mario Party? Vedete? Non è possibile, non si può sbagliare. Perché mi non venire tutti Super Mario tutti insieme? Non venivano tutti quelli che non so. Maledizione. Sì. Arachnofobia. Che ne so. Ecco. Ho fatto meno di prima. Yeee! No, cioè... È veramente difficile questo gioco. Vabbè. Magari... Non lo so. Facciamo un'ultima. Ho fatto tempo. Stono nell'idea. Non vorrei. No, ragazzi. Per me è una droga questo gioco. Però dai, non... Non continuo all'infinito. Sono qui, rente. Non usciamo più fuori da questo tunnel del divertimento. E quindi... E quindi... Ora vi lascio il link sotto, nelle box informazioni, così magari ci giocate anche voi e poi condividiamo le nostre esperienze, i nostri punteggi, così vediamo un po' magari qualcuno riesce a raggiungere i livelli più elevati. Perché io spesso, come avete potuto vedere, magari lo conosco pure il gioco, ma non mi viene in quell'istante, perché la frenesia del momento mi fa praticamente perdere la memoria. Quindi, non so, rispondetevi nei commenti, magari se avete visto qualche gioco, ditemi il nome, magari così riesco ad raggiungere un livello più elevato. Ok, allora, al prossimo video e ciao da Silvia Wonka. Yeee!